Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sulla nuova mappa zombie di Call of Duty Black Ops 3, precisamente la mappa Revelations, per mostrarvi un glitch con il quale potrete uccidere facilmente i Marwa. Semplicemente, una volta che arriverete a round 11 o 12, quando in pratica uscirà il Marwa, dovrete teletrasportarvi ripetutamente nel rituale vicino il glitch. Come si vede nel video, quando avrete la luce del Marwa a viola per terra, semplicemente vi teletrasporterete altre due volte. In questo modo il Marwa morirà immediatamente. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi. Ciao a tutti!